... Partita anche la seconda delle quattro batterie dei 100 Farfalla assoluti femminili in terza corsia Carlotta Meoli e lei la favorita in questa batteria un atleta specialista dello stile libero ha partecipato con la nazionale italiana alla Coppa Latina del 2010 e ha vinto anche l'oro con la staffetta 4x2 intanto Alice De Longhi nella sua scia Meoli 29,94 De Longhi 30,65 per la terza batteria sono i blocchi in area Bonora, Rarinante Smarostica in 1 Giulia Fissi, SC Nuoto in 2 in corsia 3 Beatrice Barcellona, Veneto Banca Montebelluna in 4 Alice Conte, Riviera Nuoto in 5 Veronica Ferracci, 2000 Padova Federica Vannucchi, Futura Club Prato in 6 mentre Carlotta Meoli va alla vittoria 1,04,03 le basta a vincere la sua batteria 1,04,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03 Grazie.